Calcio di rigore I risultati della 27esima giornata dell'eccellenza Grumentum Vitalba 4 a 1, Melfi Lavello 3 a 1, Montescaglioso Rotonda 1 a 2, Murese Fides Scalera 1 a 3, Real Metapontino Latronico 4 a 1, Real Senise Alto Bradano 5 a 1, Real Tolve Sport in Pignola 1 a 4, Soccer Lago Negro Moliterno 6 a 0, Riposa Lavultur. La classifica, Rotonda in testa con 65 punti a seguire la Soccer Lago Negro con 61, quindi Melfi e Grumentum 54, Real Senise Lavello 43, Fides Scalera e Montescaglioso 42, Real Metapontino 38, Sport in Pignola 37, Vitalba 28, Moliterno 24, Murese 22, Vultur 17, Real Tolve 15, Latronico 12, chiude l'Alto Bradano a 8. E dopo aver visto insieme come sono andate le gare dell'ultima giornata andiamo a fare il punto del massimo campionato regionale, vale a dire quello, di eccellenza. Il Rotonda ha dimostrato di valere il primato battendo in rimonta il Montescaglioso, tutto nella ripresa al gran gol di Grittani, ha risposto Cirana su rigore, poi la rete di Senè ha consentito alla capolista di conquistare l'undicesima vittoria consecutiva. La Soccer Lago Negro ha invece consolidato l'argento rifilando un pesante cappotto al Moliterno, Mastro Berti, le doppiete di Nardozze, Lancellotti e Trisolini, i giustizieri dei Valdagrini. Viaggiano sempre a Braccetto Melfi e Grumentum, i federiciani e si sono aggiudicati il derby con il Lavello, mentre i valigiani hanno avuto ragione del Vitalba. Il Lavello con la sconfitta di Melfi è stato agganciato a quota 43 dal Real Senise, che ha rifilato un pocherissimo al fanalino di Codalto Bradano. Con la vittoria conquistata a Muro Lucano, la Fides Scalera è salita a quota 42 ed ha agganciato in classifica il Montescaglioso. Con lo stesso punteggio il Real Metapontino ha liquidato il Latronico e lo Sporting Pignola e ha espugnato il campo del Real Tolve. Lancellotti a quota 27 con la doppietta rifilata al Vitalba si è ripreso allo scettro dei Cannonieri, scalzando il compagno di squadra Scavone rimasto fermo a quota 26. In classifica avanzano anche Serritele e Bongermino, a 21-18 invece le reti per Senè e 13 per D'Amico. Restiamo in orbita a calcio, scendendo però di categoria e passando alla promozione dove l'accoppiata di testa Ferrandini e Rotunda Maris alle prese con le prime prove di fuga. Ma andiamo a vedere come sono andate le gare delle giornate, le gare disputate nell'ultimo weekend. I risultati della ventunesima giornata del campionato di promozione. Anzi, Pomarico 1-3, Prienza Bella 4-0, Milionico Fortuna Potenza 2-1, Oraziana Venusa Ferrandina 0-3, Rotunda Maris Paternicum 6-1, Ruoti Avigliano non disputata per impraticabilità di campo, Sant'Arcangiolese Candida Melfi 1-1. La classifica, Rotunda Maris e Ferrandina al comando con 46 punti, Pomarico e Sant'Arcangiolese 38, Candida Melfi 37, Brienza 36, Anzi 30, Oraziana Venusa 27, Milionico 25, Paternicum 24, Avigliano 20, Fortuna Potenza 19, Bella 12, Ruoti 5. E come è fatto per l'eccellenza, andiamo a vedere dunque il punto delle partite valide per l'ultima giornata del campionato cadetto regionale, quello di promozione. Alla luce dei risultati dell'ottava di ritorno è più che certificato che Ferrandina e Rotunda Maris stanno provando a scappare via. Una fuga a due che domenica prossima, visto che le due battistrada si contenderanno il primato al Santa Maria, potrebbe dare maggiori indicazioni su chi, delle due, conquisterà direttamente l'eccellenza. La compagine aragonese domenica scorsa ha espugnato il campo dell'Oraziana Venusa con un perintorio 3-0, mentre gli ionici si sono abbattuti come un ciclone sul Paternicum. Dalla gara di cartello tra la Sant'Arcangiolese e il Candida Melfi non è uscita nessuna vincitrice. L'altra gara di cartello si è giocata a Calvello e Lanzi, che era anche passato in vantaggio, non è riuscito a battere il pomarico per rientrare nel giro play-off. Dopo quattro gare è tornato al successo pieno anche il Brienza, che sul campo amico ha inflitto l'ennesima sconfitta, la sesta consecutiva al Bella, che rischia di andare direttamente alla finale play-out se non riuscirà ad accorciare un po' le distanze. In chiave salvezza punti pesanti per il Miglionico, che in rimonta ha battuto il Fortuna Potenzia, rinviata a causa dell'impraticabilità del campo e il derby tra il Ruoti e l'Avigliano. Tomaselli, sempre a segno nelle ultime dieci gare, ha agganciato in vetta alla classifica dei capocannonieri Dametti, che come è noto è fermo ai box per un infortunio. I due guidano la classifica con 18 reti davanti a De Lorenzo a 16 e Di Sanza a 14. E chiudiamo la parentesi calcistica facendo un balzo sul parquet e passando al Futsal, partiamo dalla Serie B, perché nel girone G spiccava nel programma dell'ultima giornata il derby, tutto Lucano tra Orsaliano e Bernalda Futsal, mentre nel girone H il comprensorio medio Basento ha espugnato il campo del Futura. Andiamo a ripercorrere insieme i risultati e classifica dei due raggruppamenti della Serie B di Calcio a 5. I risultati della diciottesima giornata del girone G di Serie B. Caserta-Marigliano 2-3, Orsaliano-Bernalda 4-8, Sandro Abate fuori grotta 1-1, Azzurri-Conversano-Lausdomini 4-7, Alma-Salerno-Nutaranto 7-2, riposa il Polignano. La classifica, Futsal-Marigliano in testa con 46 punti insieme a Sandro Abate, poi Alma-Salerno 37, fuori grotta 30, Lausdomini 26, Rasulo-Bernalda 23, Caserta 15, Polignano 14, Nutaranto 9, Orsaliano 8, Azzurri-Conversano 6. I risultati della diciottesima giornata del girone H di Serie B. Masca Lucia Assomelilli 0-5, Real Rogit Catania 0-0, Futura Signor Prestito 1-5, Real Cefalù Paola 5-4, Real Parco Regalbuto 5-10, riposa Cataforio. La classifica, Real Cefalù in testa con 48 punti, a seguire Signor Prestito Medio Basento 39, Farmacia Centrale Paola 33, Real Rogit 31, Assoporto Melilli 28, Regalbuto 24, Cataforio e Futura 16, Catania 10, Real Parco 9, chiude Masca Lucia a 6. E dopo risultati e classifiche del girone G e del girone H di Serie B di Calcia 5, andiamo a vedere l'andamento del derby Lucano tra Orsaliano e Bernalda Fuzzal e del successo del comprensorio Medio Basento sul campo del Futura. Nel girone G i fari erano puntati tutti sul derby Lucano con l'Orsa-Bernalda in cerca di punti salvezza e la Rasulo-Bernalda a caccia di una vittoria per alimentare le speranze dei play-off. A esultare alla fine di 40 minuti adrenalinici e combattuti sono gli ionici che battono i co-regionali 8-4, proseguendo l'inseguimento al quinto posto della graduatoria, distante solo tre lunghezze. Non inganni il risultato perché la gara è stata equilibrata almeno fino a metà ripresa quando sul 4-4 un autorete di Fagnano ha spianato la strada ai ragazzi di coach de Moraes. Nella prima frazione l'Orsa passa in vantaggio con Cesar ma il quintetto Sant'Arcangiolese si disunisce e subisce il poker bernaldese firmato Fedele, Galitelli, Fedele e Fusco, prima che di nuovo Cesar fissi il punteggio sul 2-4. A inizio secondo tempo ancora uno scatenato Cesar e Dos Santos firmano il pari, poi l'Ara Chiri di Fagnano dai là al successo del Bernalda guidato da Galitelli in versione Super Mario, tripletta per lui e da Bueno che chiude i conti. L'Orsa conserve il vantaggio di due lunghezze sull'ultimo posto e sabato farà visita al Taranto in una gara delicata per la salvezza. Il Bernalda ospita Caserta con la speranza di agganciare la zona Spareggi. Nel girone H prosegue la marcia del signor prestito Medio Basento che in trasferta batte i regini del Futura conservando il secondo posto e aumentando il vantaggio sul Paolo a sconfitto Cefalù. A Reggio Calabria l'equilibrio dura un tempo nel quale i Lucani passano in vantaggio con Scandolara. Nella ripresa al raddoppio di Zancanaro rispondono i padroni di casa con Richichi. La lungo è deciso dalla doppietta di Gonzales e rifinito da Castro Giovanni per il definitivo 1-5. Grande attesa ora per la gara di sabato quando al palazzetto di Grassano arriverà la capolista Cefalù. I ragazzi di coach Scarpitti promettono battaglia. Restiamo al calcio a 5 ma dalle competizioni nazionali facciamo ritorno ai nostri confini per l'ampio focus sul massimo campionato regionale di IC1. Andiamo a ripercorrere insieme grazie all'aiuto delle schermate, risultati e classifica dell'ultima giornata. I risultati del ventesimo turno del campionato di serie C1 di calcio a 5. Pisticci Guardia Perticara 1-6 Real Matera Amici del Borgo 6-3 Shaolin Potenza Futura Matera 3-3 Senise Virtus Lauria 4-9 Atletico Lavello SD Sport 1-2 Treppi Valle del Noce Futsal Potenza 0-5 Paul Mitchell Castrum Bianelli 6-2 La classifica Comanda il Guardia Perticara quota 51 Segue il Futura Matera 47 Virtus Lauria 46 Futsal Potenza 45 Real Team Matera 42 Shaolin Potenza 28 Top Pisticci 25 Senise 23 Paul Mitchell 22 Castrum Bianelli 20 Amici del Borgo Atletico Lavello 15 SD Sport 14 E chiude il Treppi Valle del Noce a quota 9 punti Sempre più interessante quindi il campionato regionale di IC1 Con il Guardia Perticara che consolida il proprio primato Mentre diventa accesissima la lotta per il secondo posto Con ben quattro squadre racchiuse in soli 5 punti Il Guardia Perticara spinge il piede sull'acceleratore I Saurini per la prima volta in questa stagione accennano a una fuga portando il vantaggio sul Futura Matera a 4 punti Decisiva nella ventesima giornata di campionato La vittoria del quintetto di coach Bartolomeo a Pisticci per 6-1 Con la vella e dipinto una doppietta a testa nei panni dei risolutori Frena invece il Futura Matera che a potenza non va oltre il pari contro lo Shaolin Nella prima frazione ospiti in vantaggio con Stigliano Nella ripresa Lorpino e Dragonetti ribaltano il risultato Poi Rispoli firma il nuovo pareggio Nel finale assegna ancora Lorpino e Corbino per il 3-3 definitivo Con attimi di tensione tra le due squadre E Gar sospesa per circa 5 minuti Il risultato del palapergola fa gola soprattutto alle inseguitrici che si avvicinano al Futura La Virtus Lauria conferma il terzo posto a un solo punto dai materani Vincendo 9-4 a Senise Mentre il Fuzza a potenza conferma il suo magic moment Centrando la settima vittoria consecutiva in casa del 3-P Valle del Noce Sconfitto con un perentorio 5-0 Si rimette in piedi anche il Real Matera Che dopo la batosta di guardia si riabilita nel derby con gli amici del Borgo battuti per 6-3 Risale posizione in gradatoria il Paul Mitchell che si sbarazza del Castrumbianelli per 6-2 Mentre va a Venosa il sentito derby con il Lavello Nel prossimo turno gare apparentemente favorevoli alle battistrada Ma occhio al big match Virtus Lauria Real Matera Che può sparigliare le carte in chiave promozione Con l'ampio approfondimento sul campionato regionale di C1 di Calcio a 5 Si conclude la terza puntata del nuovo contenitore della nuova TV Sui massimi campionati regionali di Calcio a 11 Sulle tre lucane impegnate nella serie B di Calcio a 5 E sul campionato regionale di C1 Calcio di rigore torna come sempre tutti i mercoledì Dopo la consueta fascia di informazione targata La nuova TV Grazie mille per essere stati con noi Buon proseguimento di giornata con la programmazione della nostra emittente Grazie mille per essere stati con la programmazione di C1 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 di C